I prodotti agroalimentari pugliesi dettono la moda del mercato orientale ed in particolare di quello cinese. La recente esperienza del Food Expo di Hong Kong, prestigiosa fiera internazionale dedicata all'agroalimentare, alla quale ha preso parte anche la Camera di Commercio di Bari e le sue aziende, ha mostrato come l'eccellenza del territorio pugliese siano tra le più apprezzate ed ha tracciato la strada di un nuovo hub. A Hong Kong c'è la possibilità di incrociare ben 20.000 buyer e oltre 400.000 visitatori, quindi una grande opportunità che raccoglie tutti i maggiori operatori dell'Asia e dell'Estremo Oriente. Quindi se uno vuole in qualche modo fare affari con l'India, con la Cina, con l'Australia, con il Giappone e i paesi Singapore ed altri, deve andare a Hong Kong. Noi ci siamo andati e le imprese hanno avuto grande soddisfazione perché incontrare tanti operatori, per noi che frequentiamo tante altre fire, è un po' difficile. I risultati di questa significativa esperienza sono stati illustrati in un workshop presso la Cia di Bari, una tavola rotonda dal tema l'esportazione dei prodotti italiani in Cina, a Hong Kong, hub per la Cina. I numeri raccontano di un interesse sempre maggiore da parte del mercato cinese che sta imparando ad abbinare la qualità dei prodotti pugliesi alla sua cucina, anche quella più tradizionale. Siamo nel pieno di boom di export di prodotti italiani verso Hong Kong e Cina in particolar modo e da sempre c'è questa richiesta di prodotti veramente made in Italy, realmente made in Italy e soprattutto nell'ambito del lifestyle e del food, in questo caso quindi l'alimentare e il vino. Il prodotto pugliese si distingue perché ha delle peculiarità. Chiaramente è importante fare questo tipo di azioni, ovvero sia presenze e partecipazioni ad eventi che siano fiere, che siano manifestazioni specifiche con focus ben preciso su buyers che acquistano questo tipo di prodotti per accrescere il loro interesse e la loro cultura per quanto riguarda il cibo e l'abbinamento anche con i loro prodotti alimentari. L'esportazione della qualità pugliese rappresenta così anche un'occasione di crescita per le piccole e medie aziende che, tutelate dal marchio di qualità, si internazionalizzano. Certamente è un mercato interessante perché noi già in quell'area abbiamo delle realtà interessanti. Noi siamo in Giappone, vendiamo tantissimo in Giappone. Diciamo che il mercato cinese è un mercato giovanissimo perché la cucina cinese è diversa da quella giapponese ma comunque stanno cambiando perché loro vogliono assaggiare i prodotti italiani, quindi la pasta, gli oli, queste, diciamo, tipo bruschette, tutte queste cose. Insomma, è un mercato che comunque si sta sviluppando. Se noi italiani sappiamo dare, diciamo, la qualità a questi signori sicuramente sfondiamo.